ben ritrovati a vera mattina ora diamo il benvenuto a Romina scaloni con collegata con noi ciao Romina salve a tutti ciao Stefania ciao Romina grazie per aver accettato il mio invito ti abbiamo conosciuta e abbiamo seguito la tua vicenda umana e giudiziaria con il processo a carico di Claudio Pinti il quarantenne di Monte Carotto che consapevole di essere positivo all'HIV contagiò te ma anche la sua ex compagna morta nel 2017 voglio ricordare che la Corte di Cassazione ha inflitto a Pinti una condanna in via definitiva a 16 anni e 8 mesi per omicidio volontario e lesioni gravi un percorso di sofferenza ma anche di coraggio di grande coraggio che tu hai messo nero su bianco in questo libro che ha un titolo importante perché è riferito ad una data per te incisa ecco nella nella tua nella tua nella tua vita 4 maggio 2018 vogliamo partire da questo titolo da questa data che ha segnato la tua vita si questa è una data che rimarrà indelebile dentro di me per sempre ma non per la patologia che porto in corpo e che mi è stata inflitta ma perché ho capito che in due ore tutto può cambiare la vita può cambiare tutto può succedere e quindi è una data dove quel messaggio della cognata di lui mi diceva del suo stato e da lì mi è crollato il mondo a rosso e quindi e quindi la vita capisci che da lì si capisce che cos'è la vita che diamo tutto per scontato invece quando quando pensi perché poi come io dico sempre ero rimasta indietro e non ero informata anche perché non c'è informazione e quindi ho pensato che avesse la mia vita avesse una scadenza e invece per fortuna ringraziarvi dio oggi funziona diversamente chi si cura non infetta non è contagioso e può vivere una vita limitosa ovvio che meglio essere sani meglio non prendere medicine queste sono medicine non comuni abbastanza toste ecco quindi è una data che purtroppo rimarrà come un tatuaggio per sempre e me la porterò dietro per tutta la vita senti perché scrivere un libro per esorcizzare il dolore o per fare prevenzione per condividere una sofferenza perché allora questo libro è nato come terapia perché sappiamo benissimo che quando c'è in corso un processo dobbiamo rimanere sempre calmi e sul pezzo quindi non possiamo fare alzati di ingegno o sfogarci magari con le persone addette no e quindi cosa è successo è successo che la rabbia mi stava macerando mi stava distruggendo e chi mi segue sia la criminologa psicoterapeuta che il mio counselor mi consigliarono di buttare tutto quello che avevo dentro in fogli bianchi di getto senza quello che insomma mi veniva tant'è vero che ci sono tante parole che neanche riesco più a leggere talmente tanto che scrivevo con impeto e con dolore buttavo fuori tutta quella rabbia che non potevo versare addosso alle persone che invece magari avrei avuto voglia di fare ma non si poteva fare quindi questo libro mi ha aiutato mi ha aiutato per questo in primis poi leggendo parlando neanche con loro loro mi consiglia mi consigliarono sempre che poteva essere di grandissimo aiuto sia per divulgare per far sapere a oggi che cos'è questa patologia sia per informare anche per mettere in guardia le persone per cercare di fare prevenzione per dire per far sapere che insomma non ci si deve fidare di chiunque e nemmeno della persona che si conosce a volte a volte ci fidiamo poi sai quando ci innamoriamo sembra che no sia tutto il dia poiché anche quei campanelli piccoli di allarme che senti non non li ascolti vai avanti come un treno e invece bisogna ecco fare attenzione perché dietro le persone non sappiamo mai quello che si cela poi io lui lo conoscevo perché a Giovanna la conoscevo benissimo quindi però ecco mi sono fidata e però soprattutto questo libro vorrei tanto che prima di tutto insomma che facesse diventare questa patologia io una cosa da vivere in modo sereno e tranquillo io l'ho vissuta sempre in modo aperto sempre detto tutto non mi sono mai vergognata e ho capito che la vita se tu prendi tutto con apertura ti risponde con altrettanta apertura e questo aiuta tanto perché vivere nel buio vivere dentro la demigrazione che ancora ce n'è tanta purtroppo non fa bene non fa bene certo ma in più e in più anche non far dimenticare questa storia perché io non voglio mai far dimenticare in quanti modi in quanti modi si può fare del male le persone possono fare del male e in quanti modi si può uccidere perché Giovanna non c'è più io posso parlare parlo anche in merito io parlo anche per lei voglio parlare anche per lei a me infatti Romina scusa se ti interrompo mi colpisce oltre che il tuo coraggio la tua forza avrai avuto i tuoi momenti di disperazione però comunque hai trovato no la chiave per andare avanti nella nella tua vita la cosa che mi colpisce però è che questa battaglia tu l'hai condotta anche in nome di Giovanna no vorrei ricordarla perché questa donna è morta nel 2017 era l'ex compagna dipinti e e se è vero come hai giustamente sottolineato che oggi con l'HIV si convive si può portare avanti una vita normale seppur dovendo assumere dei dei farmaci la diciamo la gravità di quello che è accaduto a te e a Giovanna è il fatto di essere contagiate sapendo dall'altra parte venendo a scoprire dall'altra parte che la persona era consapevole ma che vi ha tenuto nascosto questo eh suo stato è quello ecco che secondo me poi davvero è è è disarmante no? Sì allora io ci tengo a dire una cosa perché è molto importante allora chi è sieropositivo ed è in cura non contagia quindi per legge può anche non dirlo perché c'è una parte poi dipende poi ognuno fa la sua scelta per esempio io io lo direi sempre anche per quanto le persone la maggior parte delle persone lo sanno ma comunque io lo direi però va bene così ma chi si cura solo perché chi non si cura ed è consapevole di averlo cioè è reato è un gravissimo reato perché ricordiamoci che ci sono anche persone che non lo sanno di avere non hanno colpe no non so di avere non sapevo neanche io di essere sieropositivo o sieropositiva ovviamente non ha colpe anche se anche lei o lui stesso una vittima però chi lo sa e non si cura e non è in cura e sa benissimo di contagiare e questo è un reato gravissimo e questo ci devo dirlo perché ecco non è che siamo tutti un tori e ricordiamoci anche che Claudio Pinti non ha fatto del male solo a me e a Giovanna ma ci sono tantissime altre persone coinvolte anzi lui si vantava no di avere insomma un giro di donne se se ricordo bene insomma nel nel libro sì 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 io l'avevo purtroppo sottovalutato questa cosa pensavo che lo dicesse per farsi grande invece peraltro peraltro oltre a ciò che racconti tu vorrei anche ricordare che questo libro per chi lo lo leggerà offre degli spunti non da poco perché ci sono anche delle dichiarazioni testimoniali riprese dagli atti processuali che fanno ben capire no al lettore di cosa di cosa si sta parlando quindi è un libro che oltre alla vicenda umana riporta a stralci diciamo anche quella processuale quindi è secondo me una una scelta azzeccata perché dà un'impronta ancora più forte a questa a questa vicenda Romina sì che poi che poi ecco io dico sempre quando racconto la mia storia e anche quando ho fatto il libro e l'ho letto ovviamente è mio quindi a volte mi sembrava cioè io stessa mi sembrava di essere distaccata no come per dire ma sto raccontando un film cioè io sto raccontando un film perché questa storia non è solo il fatto che io sono stata contagiata è proprio ci sono tanti retroscena che sono da brilli e quindi a volte quando lo si legge ma poi lì ovviamente c'è delle parti no poi io so quello cioè chi lo passa può capire quello che si prova totalmente nella profondità ma questo libro chi lo legge e chi l'ha già letto e sono felice ringrazio tantissimo tocca tanto perché veramente sembrano racconti di scene di film invece quando io lo racconto a me stessa dico io stessa dico ma cosa sto raccontando un film e poi dico no è la realtà sono io che l'ho vissuta questa cosa io e tutte le altre persone che sono coinvolti avrebbe potuto viverla chiunque no perché del resto il il claudio si presentava come una persona insomma che aveva il suo fascino come tu stessa ricordi in questo libro no sapeva tenere una conversazione sapeva come dire come come corteggiare una donna la vostra storia iniziata come quella in un film che è in un film romantico no con un corteggiamento ehm ecco eh proprio proprio come due innamorati perché eh nei primi tempi è così che che viene descritta ma tu hai anche parlato di piccoli segnali io eh per esempio eh vorrei riferirmi anche a quelle piccole discussioni su sull'assunzione anche di una semplice tachipirina no eh lì probabilmente eh anche tu eh noti che c'è qualcosa ecco in lui che non ti convince senza contare le sue insicurezze quando comincia a essere insistente eh nei tuoi confronti sì sì a lui lui faceva lui praticamente stava proseguendo tutto quello che faceva con Giovanna lo stava facendo e proseguendo con me ehm solo che ovviamente io eh Giovanna l'aveva proprio deufradata noi sappiamo benissimo quello che un uomo possa può essere capace di fare una donna cioè quando a una donna gli togli l'anima non è più niente è come se fosse già morta pur vivendo quindi eh poi dipende dai caratteri dipende anche dalle situazioni che una persona ha intorno dalle insicurezze ma lui come dicevi anche tu prima ed è corretto è stato sempre molto mentale è stato sempre molto manipolatore ed è stato sempre molto bravo ma se tu fai caso tutte queste persone hanno hanno queste queste caratteristiche queste persone tutte ce le hanno anche queste ultime notizie che sentiamo in televisione se tu ci fai caso hanno tutte queste caratteristiche e le sviluppano perché poi devono mentire sempre mentono mentono in continuazione senti vorrei ripercorrere brevemente questa questa storia abbiamo preparato un brevissimo servizio lo ascoltiamo insieme e poi torniamo un attimo sul tuo libro va bene sentiamo un matrimonio alle spalle un figlio una convivenza interrotta romina finalmente incontra l'amore che sogna o almeno crede lui si chiama claudio un uomo rimasto vedovo con una figlia persona riservata a affascinante intrattiene da subito conversazioni interessanti il suo romanticismo e le sue buone maniere conquistano romina la storia nei primi tempi è da film mille attenzioni coccole divertimento e tanta passione ma il rapporto presto mostra le sue prime crepe lui diventa insicuro e pressante romina coglie i primi segnali che qualcosa non va ma il peggio deve ancora venire la donna non si sente bene lui contrario alle cure tradizionali solleva dubbi anche sull'assunzione di una semplice tachipirina romina non migliora e continua ad avere strani sintomi poi arriva il 4 maggio 2018 giorno in cui la donna riceve il messaggio della cognata la quale le confida che claudio è positivo all'hiv per romina è uno shock lui sminuisce la donna nel frattempo fa le analisi e quando arriva il risultato è il suo medico curante a comunicarle la sua siero positività romina si sente mancare ma affronta il ricovero e allo stesso tempo ricorre alla giustizia parte la denuncia poi il processo con i tre gradi di giudizio romina combatte per se stessa ma anche per giovanna ex compagna di claudio infettata anche lei dallo stesso uomo e deceduta nel 2017 la forza di una donna di una mamma non conosce ostacoli romina lo insegna attraverso il coraggio dimostrato in questi anni che l'ha portata anche a mettere nero su bianco la sua storia il libro 4 maggio 2018 è un diario un viaggio nella sofferenza un percorso che però lascia spazio alla generosità nel voler aiutare gli altri facendo prevenzione la corte di cassazione ha condannato claudio pinti a 16 anni e 8 mesi il quarantenne di monte carotto è stato ritenuto colpevole di aver contagiato con l'hiv la sua ex compagna giovanna gorini e poi la fidanzata romina scaloni per gli ermellini la morte della gorini fu conseguenza di tali rapporti sessuali che produssero l'infezione che a sua volta determinò l'insorgere dell'ids risultata letale romina ha ripreso in mano la sua vita con l'hiv si può convivere ma occorre fare informazione affinché ciò che ha vissuto lei non accada mai più a nessuno domina eccoci volevo tornando al tuo libro riprendere un po l'immagine finale no che è riferita al tuo papà quel papà che sistemava tutto no diceva ci penso io noi noi figlie femmine sappiamo che vuol dire quella frase perché dice tutto ci fa sentire al sicuro e devo dire che il libro è un po un cerchio che si chiude da questo punto di vista perché tu parti un po con i tuoi ricordi da ragazzina in famiglia e da donna adulta riprendi appunto quei ricordi in mano sì sì lui riprende questi ricordi perché ovviamente è stata anche una scelta per cercare di rendere questo libro non proprio ecco c'era il rischio che se partivamo subito forte le persone anche quelle più sensibili non riuscivano a finirlo a leggere quindi è stata anche una scelta per cercare di farci di fare arrivare le persone a leggere quelle di farle arrivare alla alla botta grossa piano piano certo con calma e il mio papà purtroppo io l'ho perso ad agosto del 2020 non ha potuto essere vicino a me nel momento che la Cassazione ha confermato tutto e anche in questo momento per quanto io so che lui è sempre con me lui è sempre con me mi dà dei segnali e comunque sia è una parte importante mi manca tanto perché lui sdramatizzava tante il suo sdramatizzare era una cosa che a me ha fatto sempre tanto bene e mi manca tanto quella farfalla in copertina è riferita a lui non lo dico ok allora non lo posso dire perché non voglio sbagliare non svegliamo troppo no comunque consiglio che la copertina scusa mi stessi diciamo che la copertina che è stato bravissimo l'illustratore mi ha disegnata e allora diciamo che la copertina c'ha tutto un nesso con il libro sia la luce sia i piedi scalzi no perché io ho sempre detto che ho attraversato l'inferno a piedi scalzi e quindi ecco si vince che c'è anche un po' il fuoco no quindi e c'è sempre stato qualcuno che mi ha accompagnata e c'è tuttora sempre e questa è una cosa che a me ha sempre dato forza e non mi sono mai sentita sola e questo in questi casi in queste circostanze è tanto importante senti e oggi che donna che donna vedi quando ti guardi allo specchio sei comunque fiera del di questo di questa uscita dall'inferno se possiamo parlare di uscita perché poi comunque i demoni no ci circondano sempre quelli legati alle nostre sofferenze e allora e io dico sempre no somatizzare una patologia una volta che prendi consapevolezza e sai come funziona personalmente io è stata la prima cosa che sono riuscita a superare ma quello che dico io è che al male che ti fanno le persone e non c'è una cura e non si supera mai non si esce mai dall'inferno devi solo imparare a conviverci devi tramutare trasformare il dolore in qualcosa di costruttivo per andare avanti ci sono stati dei momenti che sinceramente sprofondavo continuamente mi rialzavo e sprofondavo mi rialzavo e sprofondavo e anche quando ho visto ho ripercorso adesso le immagini che ovviamente anche esse rimarranno sempre dentro di me indelebili e capisci proprio che mai si passa realmente quello che quello che mi è è stato fatto non lo passerò mai ho imparato a trasformarlo e questo libro può essere una parte di partenza per una trasformazione sono tanto cambiata mi ha cambiato tantissimo questa questo trauma questa storia mi ha cambiato tanto mi ha tolto tanto ma mi ha dato anche tanto e anzi io volevo ringraziare tutte le persone che mi supportano e che mi stanno vicino sia le persone più strette che anche tutte le persone d'italia e anche alcune fortissime fuori fuori italia perché in certi momenti quando pensi che non sei non c'è non è non hai sempre la sicurezza che stai facendo bene invece quando vedi insomma il riscontro positivo allora li prendi la forza per andare avanti e ringrazio tanto anche te anche tutti voi che mi avete sempre aiutato in questo è importante tanto 4 maggio 2018 lo potete ordinare nelle principali insomma librerie però vorrei ricordare che può essere scaricato anche e acquistato tramite amazon è molto semplice insomma in pochi clic lo si può lo si può avere scorre bene è veramente un viaggio che può insegnare può insegnare tanto a tutti a tutti grandi e piccoli ci sono anche su altre piattaforme ebook su tutto il mondo in tutto il mondo invece cartaceo c'è su fettrinelli mondatori ds insomma giardino di libri in tante piattaforme amazon ovviamente quello che è più comune a tutti quello che ho usato anch'io romina grazie grazie davvero per questa testimonianza per questa intervista io ti abbraccio anche se siamo lontane speriamo davvero che un giorno riusciamo a farlo di persona no lo faremo te lo prometto assolutamente ciao romina grazie grazie a romina scaloni grazie ancora per essere stata con noi ci separiamo solo per un attimo e ritorniamo tra pochissimo